A Scido, comune preospromontano della piana di Gioia Tauro, presso la località Montepedia, i carabinieri della locale stazione, insieme all'ottavo nucleo elicotteri di Vibo Valencia e dello squadrone eliportato Cacciatori Calabria, hanno rinvenuto una piantagione composta da 500 piante del tipo cannabis indica, dall'altezza media di circa 2 metri cada una in pieno stato vegetativo con un peso complessivo di 150 kg, che avrebbe fruttato sul mercato della droga illeciti profitti sino ad un importo di circa 250.000 euro. Nelle immediate vicinanze è stato altresì rinvenuto un impianto di irrigazione in stato di efficienza e vari attrezzi agricoli probabilmente utilizzati per l'illecita coltivazione. La piantagione era stata occultata tra la fitta vegetazione ed è stata rinvenuta a conclusione di una vasta attività di rastrellamento svolta sinergicamente dai militari a seguito di un mirato servizio coordinato dalla Compagnia Carabinieri di Palmi, diretta dal Capitano Lorenzo Lega. La piantagione, previa campionatura, è stata distrutta in loco, mentre i campioni prelevati su disposizione dell'autorità giudiziaria sono stati sequestrati e saranno successivamente trasmessi al RIS di Messina per le analisi tossicologiche del caso. Grazie a tutti.